Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale e tv siti. In apertura il consueto punto sull'emergenza covid nei comuni vesoviani. Weekend nero per Torre del Greco, dove da venerdì a domenica sono stati registrati quattro decessi. E invece i ristoratori sono in crisi. Ai nostri microfoni, un rappresentante della categoria, ha parlato della profonda crisi economica che sta vivendo l'intero settore e chiesto aiuti concreti alle amministrazioni pubbliche. Passiamo ora alla cronaca con i controlli della Guardia di Finanza per il rispetto e la normativa anticontagio. Solo nel weekend fermate 1500 persone. Ancora causa rifiuti invece a Torre del Greco. Anche questa mattina, come quasi tutti i lunedì, la città risulta sporca, soprattutto nelle vie del centro, invase dai sacchetti. Convocato un tavolo di lavoro d'urgenza con la Butol. In conclusione, lo sport con la Turris sempre più vicina ai play-out dopo la disfatta contro la Juve Stabia. Questo ed altro nei nostri servizi. Weekend nero a Torre del Greco, con ancora quattro cittadini morti. Da sabato il centro operativo comunale ha registrato 45 positivi al covid a fronte ai 35 nuove guarigioni. Un bilancio che si aggrava di poco, con 1228 torrisi attualmente contagiati, di cui 68 ricoverati in ospedale. Tuttavia il virus continua a mitere vittime nella città del Corallo. Venerdì è stato registrato il decesso di due cittadini di 75 e 76 anni. Sabato di una concittadina ai 60 anni e domenica di un avvocato ai 63 anni. Nuove vittime anche a Torre Annunziata. Sono 32 i nuovi casi di contagio a covid-19 negli ultime 48 ore, a fronte di 398 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta all'8,04%. Al contempo si registrano anche 78 guarigioni e due decessi di un uomo e una donna di 95-80 anni. Verificatisi rispettivamente il 13 e il 9 marzo. Sono 550 i cittadini di Torre Annunziata attualmente positivi. Dati più riassicuranti invece per Portici. La percentuale dei contagi dei nuovi positivi dall'8 marzo al 13 marzo si attesta al 9,48%, ben al di sotto della media regionale. Su 1.233 tamponi effettuati i positivi risultano essere 117. Tuttavia il sindaco Cuomo ammette che fin troppe persone non stanno rispettando i nuovi divieti imposti. Stesso problema anche a Castellammare, dove i vigili urbani stanno adottando il criterio di tolleranza zero, multando chiunque si trovi ad infrangere le regole anticontagio. Nel frattempo, solo nel weekend sono 148 i cittadini di Castellammare risultati positivi al coronavirus, a fronte però di 97 nuovi guariti. L'indice di contagio è intorno al 17%, un trend in discesa rispetto ai giorni passati, ma ancora altissimo anche rispetto alla media degli altri comuni. Negli studi di TV City, Carlo Esposito, presidente dell'Associazione Aria Sviluppo Porto, nonché imprenditore di Torre del Greco, momento molto difficile per il settore della ristorazione. È un anno che stiamo soffrendo. La ristorazione è tra quelle attività maggiormente colpite, e tanto è vero che dopo un anno stiamo incominciando a vedere imprenditori che stanno chiudendo, perché chiaramente non ce la fanno più. A proposito di questo, abbiamo oggi un incontro con l'assessore alle attività produttive e con l'assessore al bilancio, nonché i dirigenti del settore, per trovare una soluzione a sostegno della ristorazione. Quali saranno le vostre richieste? Le richieste le facciamo già a suo tempo. Riguardava innanzitutto la riduzione della Tari, la possibilità di avere un contributo per aiutare le attività chiuse, e poi c'era anche un discorso legato a un portale online, che dava la possibilità di vendere online a tutti i commercianti, a tutti gli imprenditori di Torre del Greco. In questo momento voi come categoria sentite la vicinanza delle istituzioni? La stiamo sollecitando la vicinanza delle istituzioni, perché chiaramente sono presi da mille cose e noi purtroppo non siamo in ordine tra i primi. Quindi stiamo cercando di sollecitare incontri come quello di stamattina e sensibilizzare l'amministrazione a venirci incontri in qualche maniera. Perché è chiaro che gli imprenditori, già ho detto un'altra volta, devono rischiare, ma una pandemia non rientra fra i rischi di imprenditori. Quindi è necessario in questa situazione avere un sostegno anche dall'amministrazione locale. Sono tanti in questo momento gli imprenditori, ristoratori e attori del Greco che si trovano in grandi difficoltà economiche e che rischiano anche la chiusura? Sicuramente sì, perché purtroppo ci sono anche piccoli imprenditori che campano preventemente di questa attività e hanno difficoltà proprio ad andare avanti. Perché a parte le spese vive c'è anche un problema di sussistenza della famiglia. Quindi uno dopo un anno ha perso tutte le risorse. Tanto è vero che a Corso Garibaldi già due locali hanno chiuso e penso che su Torre del Greco non siano gli unici due. Quindi è necessario fare in fretta per aiutare gli imprenditori. Un settore anche strategico dell'economia di questo territorio? Esatto. Da occupazione a una bella fetta di cittadini torresi è un settore tra l'altro legato al turismo che purtroppo in questo momento non è possibile e quindi è necessario in qualche maniera sostenerli. Qua nessuno vuole elemosinare nulla. È necessario un sostegno anche nella riduzione delle tasse che già questo potrebbe alleviare le casse ormai saurite degli imprenditori. Lei prima parlava di Corso Garibaldi, una zona che è stata anche riqualificata e rispetto alla quale molti imprenditori hanno avuto anche il coraggio di investire e di rischiare. Abbiamo rischiato, io per esempio sono da quattro anni in Corso Garibaldi, abbiamo avviato con grossa sofferenza perché chiaramente la zona non era tra le migliori, però poi c'è stato un boom di presenze e di frequentazione molto interessante, tant'è vero che dopo di me hanno aperto anche altri imprenditori. E quindi è un peccato dopo tutti questi sacrifici buttare tutto a mare. È necessario che l'amministrazione ci dia una mano. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha rafforzato anche in questo primo fine settimana dopo il ritorno della campagna in zona russa il dispositivo dei controlli sulle misure di contenimento anti-covid. In totale, tra venerdì e domenica, sono state controllate tra il capoluogo e la provincia 1.542 persone e attività commerciali, 127 e le sanzioni complessive. Il potenziamento dei controlli ha riguardato, come di consueto, soprattutto Napoli città, a seguito delle decisioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, in particolare il Lungomare, via Partenope, via Chiatamone, via Toledo, via Chiaia, i Decumani e il Vomero. Più in dettaglio, il dispositivo composto dal gruppo Pronto Impiego e dal primo gruppo, integrato dai rinforzi delle compagnie di Torra Annunziata e Giugliano, tra i quartieri Barra, San Lorenzo e Chiaia, in piazzetta Nilo, via Benedetto Croce, piazza San Domenico Maggiore, Corso Umberto e via San Biagio dei Librai, ha sanzionato 14 tra i riducibili no mask e persone strada, senza validi motivi. A carico di uno di questi è stato operato anche il sequestro di tre chili di sigarette di contrabbando. Anche all'esterno dell'area portuale, il secondo gruppo, durante tutto il fine settimana, ha sanzionato nove persone sorprese in strada, senza comprovati motivi e fuori dal proprio comune di residenza. Altre sanzioni anti-covid, anche in provincia, tra San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Torre del Greco, Somma Vesuviana, Pozzuoli, Quarto, Giugliano in Campania, Qualiano, Ischia, dove le fiamme gialle hanno sanzionato decine di soggetti senza mascherina, ovvero trovati in strada durante il coprifuoco. Inoltre, tra Caivano, Fratta Minore e Crispano, sono state sanzionate 30 persone in strada, senza un valido motivo, sequestrando a carico di quattro di essi marijuana, cocaina ed eroina. Infine, tra Nola, Pompei e Barano Dischia, anche grazie a segnalazione di cittadini pervenuti alla sala operativa del comando provinciale, sono stati sanzionati internet point e sale scommesse in funzione aperte al pubblico, nonostante i divieti. Ancora disagi sul fronte ai rifiuti a Torre del Greco. Come spesso accade all'inizio settimana nella cittadina torrese, all'insegna di cumuli di spazzature per le strade. Causa di aree maggiormente abitate, dotate di pochi cassonetti, e dei cittadini che ad oggi sembrano non aver ben compreso l'azione e lo svolgimento del servizio di ritiro rifiuti porta a porta. Infatti, è facile notare come vengono identificati angoli o punti di strada nella quale i numerosi decidono di trasportare i propri rifiuti, così da evitare di lasciarli al di fuori delle proprie abitazioni in caso di mancato ritiro degli operatori ecologici. Le aree interessate sono ovviamente quelle meno frequentate e di periferia. Nelle scorse settimane avevamo documentato lo stato orrido in cui apparivano alcune aree della periferia torrese diventate ormai discariche. Non mancano all'appello anche le aree centrali o adiacenti al centro cittadino. Una città quindi destinata ad un inizio settimana all'insegna della totale inadempienza del servizio di raccolta rifiuti. Depositare materiale ingombrante ai bordi delle strade e sui marciapiedi è diventato ormai cara abitudine dei cittadini, causa anche il totale disinteressamento delle forze dell'ordine nel controllo degli sversamenti abusivi. Qualcosa nel palazzo cittadino inizia però a smuoversi. Proprio in queste ore il comune di Torre del Greco ha chiesto un confronto urgente alla ditta di raccolta rifiuti Butol per mettere in chiaro, ancora una volta, le criticità che portano al collasso il sistema di ritiro rifiuti. Il comune ora chiede una svolta, chiede che il problema venga risolto e quanto prima possibile. Disfatta per la Turris che rimedia un sonoro 4-1 al menti di Castellammare contro la Juve Stabbia. I corallini subiscono una dura lezione dai gialloblu che si da subito si riversano in attacco per mettere sui binari giusti la partita. La prima grande occasione è per Scacca Barozzi che da due passi manda incredibilmente alto. Risponde per Sano che calcia addosso al portiere stabbiese. Ma in due minuti la svolta, rigore per fallo su Vallocchia che Marotta trasforma, palla al centro e lo stesso Marotta raddoppia sfruttando una difettosa respinta di Abagnale su un tiro di Orlando. Juve Stabbia avanti 2-0. Dieci minuti dopo è Giannone a trovare la rete con una punizione da oltre 25 metri che buca le mani a Lazzari. Subito dopo è ancora per Sano a non trovare lo specchio della porta. In avvio di ripresa palo di Fantacci e il primo ad arrivare sul pallone è ancora Marotta che in semirovesciata batte ancora il portiere Corallino per il 3-1 e poco dopo Garattoni chiude definitivamente la partita col gol del 4-1. L'ingresso di Longo cambia poco le cose, la partita non ha più sussulti di nota fino al triplice fischio che sancisce l'aggravarsi della crisi in casa Turris. La squadra di Mister Caneo ora vede pericolosamente da vicino la zona play-out, distante ora solo 4 punti avendo giocato anche una gara in più. Mercoledì impegno casalingo a Liguori contro il Catania. Grazie per la cortese attenzione. Per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazione chiocciolatvcity.it o al numero di telefono 340 65 61 484. E con questo è veramente tutto, io vi do l'appuntamento a domani con altri servizi. Grazie a tutti.